Ben tornati a Tg2 Costume e Società. Quando la disabilità non è una vergogna, la storia che vi proponiamo è un messaggio forte alla società che deve occuparsi di un problema mai completamente risolto. Pier Giorgio Giacovazzo. Mi raccomando, non mi fare un pezzo strappalacrime e non mi mettere la musica triste. Non è rabbia, è voglia di vita. Loredana è una ragazza di Galliavole, in provincia di Pavia. Aveva 17 anni quando perse l'uso delle gambe in un incidente stradale. Ti manca la tua vita indipendente, la tua vita reale, quella che sognavi. Come lei ogni anno circa 1500 italiani diventano para o tetraplegici per una lesione del midollo spinale. Oggi 80.000 persone secondo il Ministero della Salute. Allora scusa che musica ci devo mettere? Loredana è una di quelle che non sa stare ferma ad aspettare che qualcuno si muova per lei, anzi per loro. E lotta quotidianamente con il suo blog Cure Girls e con il suo gruppo Sruotiamoci per sensibilizzare l'opinione pubblica al sostegno delle ricerche di cure per la lesione spinale. Credo che la maggior parte del problema sia che la gente non ci crede, pensa che sia impossibile. Ma la scienza ci sta dimostrando, anche recentemente con alcuni studi fatti in Svizzera, che si può rigenerare il midollo. Quindi dobbiamo solo puntare su questo tipo di ricerca con maggiori investimenti e far capire alle persone che si può e si deve. Loredana non è un'illusa, la rigenerazione del tessuto nervoso non è più un'utopia. Lo stesso Parlamento europeo nel lontano 2002 ha chiesto agli stati membri di investire nella ricerca di una cura per le lesioni spinali, suggerendo anche di reperire i fondi nel prelievo di parte delle tasse sugli alcolici e parte delle multe, visto che la principale causa sono ancora gli incidenti stradali. Raccomandazione pressoché inascoltata in Italia. Dobbiamo passare per gli illusi, neanche per quelli che si fanno abbindolare, per l'amor di Dio, dobbiamo essere attenti a questo. Ma sì, deve assolutamente. Facciamo passi giganti dappertutto. Non possiamo non farlo in questo campo, perché è troppo importante. La paralisi deve diventare reversibile. Dopo l'incidente Loredana si è laureata in scienze politiche, ha preso un master in sviluppo locale, è diventata consigliere comunale ed oggi lavora per una ditta di trasporti. Io l'università l'ho fatta, l'ho fatta perché mia madre mi seguiva tutti i giorni. Viva con me, stava lì al freddo, oppure nell'aula di fianco ad aspettare. E come tanti altri, nelle stesse condizioni, fa la sua paraolimpiade tutti i santi giorni lontano dai riflettori, ma l'immagine dell'atleta paraolimpico proprio non leva giù. Il disabile è visto come un superuomo, quello che oltrepassa i propri limiti. Di fatto non viene visto il disabile nella quotidianità. Quello che ad esempio per la mia visione combatte con un catetere tutti i giorni o con la perdite la propria autonomia personale. Questo dovrebbe farci pensare e far sì che chi organizza le paraolimpiadi cerchi magari di far supportare la ricerca dagli sponsor, sempre a vantaggio di tutti e non solo di pochi. Grazie. 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 Grazie.